Finisce un'odissea durata 30 anni. Domenica, salvo complicazioni dell'ultimo minuto, verrà inaugurato lo stadio di Acqua Santa nella gara d'esordio dell'Aquila Calcio con il Monte Rosi. I problemi riguardo l'impianto sono stati infatti quasi tutti risolti con i collaudi che hanno dato esito positivo. Si aspettano ancora le autorizzazioni della Questura e della Prefettura, ma non dovrebbero esserci problemi alla luce degli scontri tecnici effettuati. L'impianto era stato intitolato al Gran Sasso d'Italia come da delibera di giunta comunale del 2008, quando però era ancora destinato alla palla ovale prima della svolta operata nel posto terremoto, quando si è deciso che lo stadio, senza barriere, sarebbe diventato la nuova casa dell'Aquila Calcio. Più complesso il nodo della gestione, che per il momento resta in capo al Comune, anche se la società dell'Aquila Calcio si è fatta avanti nelle scorse settimane. Una vicenda che verosimilmente verrà risolta più in là a campionato già iniziato. Ciò che interessa società, squadre e tifosi è che domenica si possa finalmente giocare in uno stadio atteso da troppo tempo e che nel posto terremoto ha ospitato persino una delle tante tendopoli che hanno dato rifugio agli sfollati dopo il 6 aprile 2009.